Incredibile, ma stanno lavando. Ciao! Ben ritrovato! Ciao! Buongiorno! Amore! Allora, bella gente, sono appena tornato dal pontile. La cosa bella, come vi ho fatto vedere, spero si veda, hanno deciso di lavarlo, perché ieri io e Giuseppe abbiamo trovato veramente un porcile. Ciao! Ora ti do il biscotto, aspetta. Meno male l'hanno lavato, appunto perché non si poteva proprio praticare più. Ormai era uno slalom, un calpestio di cacche di colombi, piccioni, gabbiani, in sé capiva niente. Ora ho l'ennesima riprova, perché me l'ha detto Endomondo. Con la Red Bull sono riuscito a migliorare su 5 km il mio tempo di percorrenza, perché ho guadagnato 4 minuti e qualcosa. Quindi direi che la Red Bull funziona. E se me l'ha detto dopo quasi 2 settimane e 3 di uso e di ginnastica così, di camminata più che ginnastica, ci devo credere, anche perché me lo sta dicendo Endomondo e non me lo sto inventando io. Detto questo, ora mi vado a lavare. Oggi sarò di nuovo da solo, perché mia madre è dovuta andare di nuovo dalla sorella. Sarò da solo con il principe bianco, che oggi ancora non è riuscito a fare, quindi per l'ennesima volta sta da solo con me quando non riesce a fare. Sta agitatissimo, perché la mamma non ci sta. Ora gli do il biscotto, mi lavo e mi metto a ultimare. L'ultima cosa della grafica che ho fatto ieri e che non mi ha convinto e non mi è piaciuta, cioè l'occhio sinistro di Recenso. È innaturale, è storto, non mi piaceva. Quindi ho voluto rifletterci tutta la notte e camminando sul pontile mi è venuto ancora questo pensiero, per cui ho la certezza che non mi piace. Il computer si sta accendendo e andiamo a dare il biscotto a questa bestia. Sono indeciso. Che faccio? Lo pubblico? Ormai l'ho finito, l'ho anche impaginato, ho rifatto l'occhio che non mi piaceva, l'ho impaginato nello sfondo che hanno lasciato. Che faccio? Sono indeciso. Lo pubblico dopo pranzo. Vado a cucinare. Ed ora buon appetito con pasta e fagioli, con una spolverata di prezzemolo appena tritato a mano e ovviamente i Tudor. Nerd! Molto bene, ho sceso il cane, ho perso un po' di tempo, e ovviamente per scendere il cane non sono riuscito ancora a finire la puntata dei Tudor, ma la sospendo perché ora mi faccio un caffè, se no mi addormento perché ho preso... Che buio! Ho preso troppo sole al pontile e quindi non ci sono per niente abituato a tutto questo sole. Io che sono un topo bianco albino del non so che cosa, del nerdismo più totale. Quindi mi faccio il caffè e poi, prima di pubblicare l'immagine per il Comic Con, ve la spiego. Chissà che cacchio ne esce. Allora, caffè... È buono qui, ma a me non mi piace. Vi faccio vedere come dovrebbe essere venuta la grafica per il Comic Con. Momento che giro la camera. Allora, la grafica sostanzialmente è questa. L'originale, già la sapete, ma ve la faccio vedere, è questa qui, ideata da Roberto Recchioni. Non so onestamente che tipo di polemica ne è uscita, onestamente non mi interessa perché... Tenga la tracca a pensare. E la cosa che mi domando è il significato di questi simboli, che non è tanto un domandarmi, ma un domandare cosa potevo mettere io, perché ovviamente questo è l'hashtag, il like, la condivisione, il mi piace, il tag e il video. Ops, la mano avanti. Ops, che sto combinando. Quindi, se questa è la sua versione, questa qua è la mia. E io ci ho voluto mettere il like, il mi piace, questo è il ramen con la Red Bull, tipici e sempre presenti nel Comic Con, tanto che, soprattutto per il ramen, non si entra neanche al Comic Con, che già si sente puzza di ramen e puzza di ascella. Il canale di YouTube. Qui ho messo Shut Up and Take My Money, perché ormai sappiamo come funziona il Comic Con. Facciamo come la formichina, che conserva tutto l'anno, e poi al Comic Con buchiamo i portafogli. E poi ovviamente ho messo il logo del mio studio. La cosa sfiziosa è che io qui su ci ho visto un buco, e quindi ne ho approfittato, e ci ho piazzato Recenso. Che qui si vede spixelatissimo, perché ovviamente stiamo tutto in Roo. Pardon, in Raster. In Roo. Che cretino. In Raster. E quindi ovviamente verrà quel che verrà. Però, per una grafica del genere, che non può essere stampata, perché la locandina che hanno dato, quelli di Nerdcore, è a 72 o 120 pixel, quindi veramente poco per la stampa. Quindi, io penso che possa andare. Ci ho messo la bacchetta di Harry Potter, anche se non è uguale, identica, ma è giusto per ricordarne una. Non mette a fuoco, perché ovviamente tiene le corna. Poi ci ho messo il cellulare con la grafica tipica del canale, con il logo di YouTube sotto al canale. Questo già ve l'ho spiegato. Poi ci ho messo qui una copertina dei fumetti di Star Wars della serie Legend. Un disco che può essere un DVD, quindi la zona film. Una matita, perché ovviamente io disegno. E qui una piuma. Una piuma che indice sia della creatività poetica che quella letteraria. Quindi abbraccia un poco quella della creatività in generale. E l'ho messa all'ultimo braccio assieme in pari grado alla matita, perché sono alla base di tutto quello che c'è sopra. Senza la creatività, senza l'arte, senza appunto l'ingegno, non ci possono essere le braccia di sopra. E quindi io l'ho inteso così. Avrò fatto bene, avrò fatto male, chi può dirlo, chi può saperlo. Ora che l'ho spiegato, forse mi sono anche deciso, lo pubblico. Il letto dietro fate finta che non esista, perché vorrei buttarmici, ma tengo ad affare e non posso farlo. Pubblichiamo. Molto bene ragazzi, direi che la serata, anzi la giornata, può finire qui. Ho cenato e mi appresto a ricevere l'ennesima cazziata perché ho cenato senza chiamare mio fratello. Perché? Lui si è buttato a letto come ogni giorno, come ogni volta, e neanche una volta ci stesse che dice magari è ora di cena, mi alzo, do una mano, oppure apparecchio io senza che me lo chiedi nessuno. No. Allora, visto che io scemo non sono e che mi dà fastidio che ogni volta si debba servire e riverire la gente, ho apparecchiato per tutti, ma ho mangiato da solo. Quando poi si ricorderà che ha fame e che deve mangiare, già sta pronto a tavola. Ma non lo chiamo. Come non chiamo mia sorella, come non chiamo mia madre se si dimentichi e tutto il resto, perché siamo una famiglia solo sulla carta. Ci dobbiamo aiutare tutti. Finito questo momento di sfogo così, io vi ringrazio per l'attenzione. Se andate al link che vi metto qui sotto troverete la grafica di Oirad per recenso per il Comic Con assieme a quella di tutti gli altri. Sono contento di essere entrato. Avrebbero fatto entrare chiunque, infatti guardano certi disegni si capisce che sono entrati di tutto. Però è un passo avanti. Io vi ringrazio se questo video vi è piaciuto ricordatevi di mettere il mi piace e la vostra partecipazione mi aiuta a crescere e a svilupparmi. Iscrivetevi se non l'avete fatto a questo canale a quello di Oirad e di recenso. Noi ci vediamo domani con una nuova giornata. Buonanotte, lunga vita e prosperità. Le ho tagliate le unghie. Mezzo di quella finestra come tutte le altre finestre di casa rimarranno sigillate tutta l'estate. Non esiste. Io odio l'estate o di insetti forse odio l'estate del proprio bambino. Comunque sia, ieri sera prima di andare a dormire ho visto che la parte